Il piano delle alienazioni è stato approvato con una delle gradi giunte il 2 marzo del 2013 e ovviamente oggi lo ratificiamo anche perché è un documento proprio identico alla costruzione del bilancio previsionale. I mappali interessati sono esattamente quattro di cui due sono dei due registrati in località palestrone e località nerole, già peraltro inseriti nei precedenti piani delle alienazioni e poi siccome probabilmente c'è un interessamento all'acquisto dei parcheggi coperti che abbiamo in località di Mielone all'interno del PL dopo varie valutazioni abbiamo deciso di inserire anche l'aliminazione di questi in modo che qualcuno potrebbe utilizzarli per farci anche dei box personali. quindi abbiamo inserito anche questi due mappali perché pur essendo un unico posteggio però di fatto catastalmente sono divisi in due. Sono un totale di circa 6 posti alto coperti per un valore complessivo di 75 mila euro perché l'unico sarebbe circa di 12.500 per posto alto insomma. Ecco la stima del tecnico è questa. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Favoremo lì.